buonasera amici di adige sport siamo in grandevole compagnia con la polisportiva calcio caselle nella persona del direttore generale mario abbiati benvenuto mario grazie mille dell'invito e buonasera a tutti a tutti gli spettatori allora partiamo dall'inizio perché la polisportiva ha ormai 44 anni di vita 52 52 ho perso un po il conto 52 anni di più esatto polisportiva caselle la polisportiva caselle è un'associazione di 10 sport presente sul territorio di caselle di somma campagna io rappresento il settore calcio che un po la nostra parlo nostra perché entrare caselle significa entrare in una famiglia è un po la nostra passione allora tu hai fatto anche per nove anni questo sono sicuro il presidente e però adesso è un altro ruolo cosa cambia sostanzialmente non cambia praticamente nulla odio il presidente ha più responsabilità ha più diciamo così più presente su tutta l'organizzazione della della società io attualmente mi occupo prevalentemente di prima squadra e juniores mentre in tutto il settore giovanile viene seguito da altre e da altre persone tra l'altro è un direttivo nuovo con una cosa positiva che segue tutto il settore giovanile ci sono dei ragazzi infatti il vice presidente Paolo Bianconi è proprio responsabile del settore giovanile con Vicentini mentre il nuovo il nuovo presidente è Fabio Sorio senti 10 sport è difficile gestirli tutti è vero che ti occupi più del calcio però siete spalmati bene sul territorio a livello di discipline diciamo che è un po diciamo così non dico una guerra ma c'è un'attenzione tantissimo ai giovani i giovani non sono tanti che hanno la voglia di mettersi proprio in discussione per cui non è facile non è facile non è facile dopo tra l'altro anche Caselle dove è collocata perché è collocata vicino a Lugagnano vicino a a Sona vicino a Santa Lucia per cui lo stesso Somma Campagna lo stesso Somma Campagna ma diciamo che a livello organizzativo insomma adesso forse qualcosina in più abbiamo noi Stiamo vedendo anche delle bellissime foto soprattutto proprio del vostro settore giovanile è molto bello vedere tutto questo impegno e questa gioia avete anche un bellissimo centro sportivo Su questo noi dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale perché se abbiamo penso uno dei migliori impianti di tutto di tutto Verona è grazie proprio all'amministrazione Siamo fortunati noi abbiamo tre campi in erba ad undici abbiamo un campo a otto sempre in erba poi due da due anni siamo riusciti anche avere il campo in sintetico sempre a otto per cui da noi non mancano gli spazi per fortuna E i tesserati adesso quanti sono visto che comunque siete in crescita? Allora i tesserati nel settore giovanile superiamo i 120 Poi parlo del settore giovanile perché per me Junior S è prima squadra è un'altra cosa La prima squadra che hai in prima categoria? La prima squadra è in prima categoria La parte più bella del tuo lavoro è di rappresentare anche questi colori perché mi raccontavi prima tu non sei di Caselle ma ci sei arrivato per motivi di cuore e da tanti tanti anni ormai sei la tua seconda casa Prima però seconda Sì no questo è vero sono 33 anni che abito a Caselle per cui gli anni sono passati Io ho diciamo questa passione che poi è una passione dove veramente devi impiegare tanto tempo perché una cosa se la fai in maniera corretta ci vuole tempo bisogna organizzarla e la passione adesso che sono passati tanti anni a vedere che in prima squadra ci sono dei ragazzi dei ragazzini che li abbiamo veramente visti crescere questa è una bellissima cosa poi basta guardare le foto la bellezza di questi ragazzi quando giocano che per loro è veramente ancora una festa per noi questo ci riempie, ci dà un senso quello che facciamo Sono assolutamente il futuro e il vostro futuro in particolare del Caselle Calcio a proposito di futuro che cosa vorresti per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo non si fanno mai delle... sai che tutti nell'ambiente del calcio sono un po' scaramantici però penso che stiamo lavorando molto bene in prima squadra abbiamo un bel gruppo di giovani, una squadra giovane che ci sta dando veramente delle belle soddisfazioni vorrei riuscire veramente a portare un po' più di professionalità nel nostro ambiente perché parlando con il Presidente e il Vice Presidente ci siamo reso conto che per crescere prima deve crescere la società poi dobbiamo essere bravi a far crescere tutta la parte tecnica cioè gli allenatori e poi da lì i risultati dovrebbero arrivare siamo un po' ambiziosi ecco Beh, meno male la strada è lunga, avete fatto comunque un bel percorso perché più di 50 anni di storia insomma qualcosa insegnano e portano anche a programmare il futuro invece la prima squadra, dimmi un po' se c'è un'ambizione anche lì La prima squadra... quest'anno abbiamo cambiato tanto il Ministro Reggio Metti è stato rinconformato abbiamo veramente cambiato tanto però ci siamo spostati su un gruppo giovane giovani di qualità perché giovani presi da realtà semiprofessionistiche perché se hanno fatto la Juniors nazionale io penso che hanno fatto un percorso diverso quando fa una Juniors provinciale però veramente stiamo andando bene siamo contenti di quello che stiamo costruendo anche in prospettiva chiaramente Ecco, allora un augurio mi permetto di farlo io che il vostro settore giovanile vi permetta di farvi la prima squadra fatta in casa che è il sogno di qualsiasi società direttantistica e quello per cui si lavora dalla base della piramide Questo è vero, questo è vero se anche devo dire che è sempre difficile trattenere dei giovani ma lo trovo anche corretto se un giovane ha delle capacità che può esprimere e se può esprimersi al meglio in categorie superiori è giusto che fanno questo tipo di percorso è anche giusto che poi una volta finito il percorso che se non fanno il salto a Caselle insomma ritornano con una formazione calcistica ben diversa con una preparazione diversa per cui io mi ricordo l'anno scorso dove abbiamo vinto il Pulcino d'Oro il famoso Pulcino d'Oro abbiamo fatto tre giorni a Levico col Caselle che giocava contro la Juventus che giocava contro il Benfica per noi è stato un orgoglio perché vuol dire che chi ha lavorato nel settore giovanile sono stati bravi perché è vero che quando sono ragazzini di dieci anni quello più bravo lo vedi però è anche vero che il gioco del calcio fortunatamente si vince sempre di squadra e trovarsi a quei livelli lì è stata veramente per noi una cosa importante poi è chiaro che da quel gruppo lì chi da Virtus, chi Villafranca chi altre società magari un po' più con strutture giovanili diverse è giusto che fanno un percorso però noi speriamo di arrivare anche noi a avere questo tipo di regionali in tutte le categorie così perlomeno è più difficile diciamo che vanno via Allora il calcio è un gioco di squadra uno sport di squadra così come lo è anche a livello di direttivo societario grazie alla polisportiva calcio caselle nella figura del DG Mario Abbiati grazie Mario perfetto grazie e buonasera a tutti